allora per quanto riguarda la posizione semi seduta e praticamente va messo il bavagliolo quello impermeabile sotto quello di soffa sopra e viene dato il latte il latte mi raccomando visto che lei è molto avida la mattina bisogna farglielo se prendere un po poi si stop stop ok fate finta di agitare così ma non allontanare troppo il biberon si nervosisce e gli si rimette in bocca scusamole ok beve un pochino stop ricordatevi di insomma di intermittere un po il latte perché altrimenti lo beve tutto di un forse gli viene il singhiozzo e poi è difficile farglielo passare e se le dice le stop diciamo è talmente abituato ormai che sa qual è il comando e non tende a comunque a succhiare forte quindi a farmi rendere quasi impossibile staccare il bibbo stop ok